Devo chiedere un'informazione dove andrà questa corriere, vediamo un po', mi scusi dove va questo pullman? Dove va questo pullman? Milano Lambrate. Ah va bene allora la vado a chiedere dall'altra parte. Va bene. Non so dove sarà, non lo so, qui c'è la semata, non so dove può essere, qui c'è da fare le strisce pedonali, dove sarà il pullman? Andiamo a chiedere di qua? Ah un'altra corriere, chiediamo all'autista di qui. Scusi, voi dove andate invece? Da che parte ci va di qua? Da Lambrate. Tutti a Milano Lambrate? Eh sì, perché dove vuoi andare? Eh ma anche il collega di là andava Lambrate. Sì, va bene. Saranno tutti a Lambrate.